Nuova Jaguar XE 2020 è una berlina di classe che unisce stile e tecnologia, tre motori, tre allestimenti e tante nuove tecnologie garantiscono un comfort di bordo ottimale con prezzi da 45.000 euro. Ecco le sue caratteristiche. Nuova Jaguar XE 2020, design interni. Nuova Jaguar XE 2020 è la versione rinnovata della berlina britannica compatta del Jaguaro, il suo design è un mix tra eleganza e sportività, sempre perfetta per i compiti di rappresentanza che spesso è chiamata a svolgere. L'ultimo aggiornamento riguarda sia il design degli esterni, con i nuovi fari anteriori e posteriori led e i cerchi in lega da 18 pollici, standard, che degli interni, capaci di elevare l'auto inglese con un elevato livello di lusso e dettagli tecnologici, sempre con la massima attenzione al dettaglio. I sedili in pelle sono regolabili elettricamente, il retrovisore interno è dotato di tecnologia ClearSigate e sfrutta la telecamera, integrata per aumentare il potenziale di visibilità. Inoltre, c'è il sistema di ricarica wireless per i vari device. Anche il sistema di infotainment è tutto nuovo, Touch Pro Duo è dotato di display da 12,3 pollici e porta a un nuovo livello l'intrattenimento. A bordo e gestisce impianto di navigazione, HIFI, telefono, radio e climatizzatore. Unica pecca, il bagagliaio non troppo capiente, 455 litri. Nuova Jaguar XE 2020, motori e prestazioni. La gamma motori di Jaguar XE offre due benzina 2,0cc 4 cilindri turbo da 250 e 300 cavalli, oltre al diesel 2,04 cilindri, sempre sovralimentato, da 180, è poi disponibile anche un propulsore benzina mild hybrid a 48 volt. Il cambio automatico a 8 marce ed è gestibile sia dal volante dotato di selettore Sport Shift, che con la levetta del Jaguar Drive. Control, in generale la vettura è ben manovrabile, leggera e dotata di assetto adeguato anche alle motorizzazioni più potenti, così come lo sterzo, oltre a essere disponibile sia a trazione posteriore che integrale. L'immagine di Jaguar XE è dunque quella di una berlina sportiva ma di gran classe, e a essa corrispondono qualità di guida adeguate, e una grande efficacia anche fra le curve, senza rinunciare al comfort. Nuova Jaguar XE 2020, prezzi e allestimenti Nuova Jaguar XE 2020 è disponibile in tre allestimenti, SSHS e ogni versione è disponibile anche nella variante sportiva R-Dynamic. La dotazione di serie su tutte le versioni comprende sedili in pelle, cambio automatico e il nuovo sistema di infotainment Touch Pro, duo con display da 12,3 pollici. Inoltre, per la sicurezza, ci sono i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, mantenimento di corsia le in tip assist di serie. Di serie o a pagamento in base alla versione è l'All Surface Progress Control che ottimizza la trazione sui fondi viscidi a velocità tra 3,6 e 30 km orari. Il listino prezzi di Jaguar XE parte da 45.035 euro, adeguati allo status della vettura e di chi la sceglie. Scopri anche Jaguar e pace. Grazie a tutti.